Il Nobel per la pace va a un attivista bielorusso, un dissidente, attivista per i diritti umani, Alex Bialyatsky, in carcere senza processo e a due ONG, una ucraina, l'altra russa. Alex Bialyatsky, dissidente bielorusso, l'ONG russa Memorial, l'associazione ucraina Center for Civil Liberties. Un Nobel per la pace assegnato nel pieno di una guerra che da otto mesi lacera l'Europa. Un premio, spiega il comitato di Oslo, non contro Putin, ma a favore dei diritti umani. Bialyatsky, 60 anni, fondatore negli anni 80 del movimento Visna Primavera, è da decenni il volto della difesa dei diritti civili in Bielorussia. Arrestato più volte, si trova attualmente in carcere senza processo, per aver organizzato una manifestazione nel 2020 contro il sesto contestato mandato del dittatore Lukashenko. Creata nell'89 da un altro Nobel, Andrei Sakharov, l'ONG russa Memorial si è invece contraddistinta per aver fatto luce sui crimini perpetrati da Stalin e quelli commessi in Cecenia e in Siria dalle forze russe, fino a quando Mosca non ha deciso la sua chiusura. Così commenta al TG3 il direttore di Memorial, ricordando che proprio oggi è l'anniversario dell'uccisione di Anna Politowskaya. E' un premio collettivo che va alle società civili di tre paesi ex sovietici e alla solidarietà che esiste tra noi, ancora più necessaria oggi in tempo di guerra. Un premio non solo a chi è arrivato vivo fin qui, ma anche a chi non c'è più. Come Anna Politowskaya, uccisa 16 anni fa oggi, anche lei lottava insieme a noi contro i crimini di guerra. Il centro ucraino per le libertà civili è stato premiato soprattutto per aver documentato i crimini di guerra russi in Ucraina dall'annessione della Crimea ad oggi. E' stata una vera sorpresa che ci motiva a fare ancora meglio. Finora abbiamo documentato oltre 20.000 crimini di guerra con un unico obiettivo, fare in modo che i responsabili siano puniti. Non conoscevo Ales fino alle manifestazioni del 2020. Era una semplice cittadina bielorussa che si prendeva cura della famiglia e dei figli. Sapevo che c'erano gli oppositori che venivano uccisi, fatti sparire o messi in prigione, ma non pensavo alla politica o alla dittatura. La vita di Svetlana Tikhanovskaya cambia per sempre nel 2020. Il marito si impegna con l'opposizione, vuole candidarsi alle presidenziali contro Lukashenko, ma viene arrestato. Svetlana prende il suo posto, con Ales Bialitsky al suo fianco. E' come una roccia. E' il nostro vero eroe. Quando l'ho incontrato mi ha detto solo, sono con te. Svetlana ora in esilio. A Parigi spera che il Nobel possa aiutare Ales e il marito ad uscire dal carcere. Questo premio è stato dato a ucraini, russi e bielorussi, oltre le singole nazioni. Dimostra che non ci sono confini per chi difende i diritti umani, per chi è contro la tirannia, il terrore e la guerra. Fa capire che c'è gente brava e coraggiosa ovunque. Questa volta la guerra si combatte in Ucraina, ma è una guerra mondiale, la guerra della democrazia contro la dittatura. Per questo sono orgogliosa di Ales, di Memorial e degli ucraini, perché questa guerra riguarda tutto il mondo.